Taranto chiama e l'Italia risponde. Taranto chiama e varie città italiane, vari cittadini italiani si stanno dimostrando davvero sensibili nei confronti della realtà di Taranto, nei confronti del dramma che noi tarantini viviamo, l'olocausto ambientale che vogliamo eliminare per sempre. È un momento di grande difficoltà che viviamo, però è bello sentire il calore di tanti italiani che hanno sposato la causa di Taranto per un senso di appartenenza, per un orgoglio italiano. I nostri contatti social hanno permesso questo miracolo. Per questo lunedì 31 gennaio faremo la diretta Facebook dalla Valle d'Aosta, sempre alle ore 21.30 e la faremo con Flacers, Federazione Lavoratori, Ambiente, Chimica, Clima, Energia, Rifiuti, Ricerca e Sviluppo, con il suo presidente Vincenzo Falco che sta mettendo a disposizione vari professionisti di questa federazione. Lo ringrazio, sin d'ora avremo modo di farvi vedere l'affetto che c'è nei confronti di Taranto. Taranto una città di mare, la Valle d'Aosta innevata, ma il cuore batte forte per Taranto, dal nord al sud. Vi aspettiamo!